A volte prima di prendere la parola vuoi tu riassumere? Bene, noi usciamo da una lezione difficile, ma ripetiamo la lezione, leggiamo gli estratti e vedere sempre le sensazioni che abbiamo adesso, come farlo in maniera più precisa? Rav. Ogni contenuto che studiamo all'inizio non si comprende ciò che si studia, perché, per dove, da dove, dove è la sua interconnessione con altri contenuti e le linee generali, tutto quello che abbiamo studiato. La persona è piena di tutti i tipi di informazioni, informazioni, dati e per questo entriamo in questo studio, sviluppiamo poco a poco questa sensazione e da questa confusione iniziale noi già ascoltiamo queste domande su quello che sentiamo, su quello che comprendiamo, tutto quello che ha a che vedere con noi. Noi stiamo apprendendo su qualcosa, su un mondo nuovo, stiamo studiando qualcosa di cui mai abbiamo ascoltato e come penetrare o entrare in questa sensazione, come sviluppare in noi questa sensazione, questo senso di come il Bore, questo si chiama la qualità di Binala, la qualità di Dazione, come con questa qualità, con queste sensazioni io posso entrare nel mondo, perché ciò che a noi ci sembra in questo mondo, in questa galassia, tutto quello che c'è qui è solo ciò che sembra apparentemente, ciò che appare al nostro ego, ma è 0, 0, 0, è soltanto un granellino di sabbia in comparazione al mondo vero, un granellino di avena, di sabbia. E noi qui stiamo acquisendo discernimenti dove mente, sentimenti, per poter entrare in questa realtà vera che è fuori da noi. È una galassia spirituale, non so, in che modo esprimermi questa realtà. Per questo qui c'è bisogno che noi abbiamo molte domande, dubbi, mancanza di comprensione, mancanza di sentimenti, disorientamento. No, tutto questo è ovvio, ma, ripeto, questo lo attraversiamo per mezzo della luce superiore, la luce che ci riforma. Per questo sempre, sempre di più, sempre di più dobbiamo leggere i frammenti, ascoltarli, ripeterli. Lei leggete tutti questi documenti e potete leggere dall'inizio alla fine, dalla fine, dal principio e sempre, 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 e ne vedrete sempre di più. I documenti servono per questo. E quindi con questo noi sviluppiamo in noi sentimenti e desideri del mondo superiore. E quindi il tuo mondo vedrai, mentre vivi nella tua vita, che durante la nostra vita noi lo riveleremo. È così, è così che vi chiedo, in ogni momento che voi possiate, leggete i frammenti, i nostri frammenti, quanto più possiate, potete. E credetemi, questo è ciò che ci va a far andare avanti al massimo. E quindi verso il congresso, che arriveremo fra due settimane, arriveremo molto più connessi e diretti al mondo superiore. E tutti quanti avremo successo e quindi tutto il meglio per voi.